Il Milan si porta a casa una grande vittoria contro l'Udinese. Volete sapere grazie a chi? Bene, ve lo dico subito nel TG di AC Milan Inside. Buonasera a tutti e buona domenica. Ebbene sì, nonostante la nostra inferiorità numerica per quasi 90 minuti a causa dell'espulsione di Tijani Reiners, il nostro Milan è riuscito a vincere per 1-0 grazie al gol di Chocuese. Un'espulsione, quella del nostro Power Rangers, molto discussa. Così come molto discusse sono state tante scelte dell'arbitro. Quanto date di voto voi all'arbitraggio di Kifi? Tra i migliori in campo ieri sera abbiamo visto in particolare due calciatori. Uno è Pulisic, ma di lui già sappiamo quali sono le qualità. L'altro è Fofana. Abbiamo visto in più i 90 minuti di panchina di Rafa Leao. Infatti Fonseca non ha mai inserito il giocatore. Non sono ovviamente mancati gli infortuni. Infatti Abram si è infortunato alla spalla ed è in forze per la partita di Champions League contro i Club Bridge. Restando in tema Champions League, probabilmente vedremo in campo Gabbia. ieri sera non l'abbiamo ad esempio visto nemmeno tra i convocati per colpa di un affaticamento muscolare. Rivedremo però il ritorno di Teo Hernández che ricordiamo in Serie A è squalificato. In attesa ovviamente della partita di Champions League contro i Club Bridge che si terrà tra due giorni, io vi saluto e vi auguro una buonissima serata. Mi raccomando, venite a seguirci su tutti quanti i nostri social. Grazie a tutti i nostri social.